Ciao a tutti ragazzi, benvenuto in un altro nuovo video, allora oggi vorrei girare i video di un fan che si chiama Gamer che mi ha scritto Puoi fare un video che reagisci ai miei video, please, adesso io ho deciso di farlo, quindi iniziamo con il primo che è questo, prova a non ridere Ah mi raccomando, voi iscrivetevi, commentate, lasciate un mi piace, fatemi sapere se volesse che facesse altri video, lo reagisco ai vostri canali, lasciate un mi piace Ciao a tutti ragazzi, facciamo una prova a non ridere Oh 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 stanno facendo quei lupetti stanno laccando ma non mi vuole ma non mi vuole non mi vuole non mi vuole ma non mi vuole tutto qui aspettavo di meglio ora guardiamo la mia nuova solo 6 secondi è durata al posto ho un canale su twitch è normale su twitch evitiamo così ci sono twitter non è twitch seguitemi non è twitch ciao va bene va bene ragazzi il video finisce qui mi raccomando iscrivetevi commentate lasciate un mi piace fatemi sapere se vorreste che facessi altri video del genere da me è tutto vi auguro una buona giornata grazie mille per aver seguito il video ciao ciao